Stava mettendo il biotanol in una lampada decorativa da giardino che serve sia per riscaldare che per tenere lontano gli insetti. È stato un attimo, prima uno scopo improvviso, poi le fiamme che hanno avvolto Virmel Archiutti, 44 anni, noto imprenditore di San Biagio di Callalta. La compagna che ha assistito alla scena ha gridato disperatamente all'uomo di gettarsi in piscina. Lui con prontezza si è gettato in acqua, gesto che gli ha salvato la vita. Poi la chiamata al 118 l'ha corso in ospedale al Caffoncello di Treviso. Il 44enne è stato successivamente trasportato e ricoverato nel centro Grandi Ustionati di Padova. Le sue condizioni sono serie ma secondo i medici dovrebbe rimettersi in due mesi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per spegnere dei piccoli roghi. Nel giardino infatti avevano preso fuoco anche alcuni oggetti. Ieri a San Biagio di Callalta non si parlava d'altro. Il sindaco Alberto Cappelletto augura ad Archiutti una pronta guarigione e spero di vederlo presto affrontare altre sfide imprenditoriali.